I pensieri di emozioni ovviamente invadono il cuore, la mente, il Papa mi chiede di ripartire un'altra volta, obbedisco perché questo grande Papa che oggi sta tra i terremotati dell'Emilia traccia ancora la strada, bisogna andare verso il mondo con un amore grande. Ricordo anche Giovanni Paolo II che ha fondato il Pontificio Consiglio per la Famiglia e poi capite che Terni, Narnia, Emilia e anche l'Umbria sono per me, sono stati il primo amore, ma l'unico, perché ho solo questa diocesi che porterò sempre con me ovviamente nel cuore. Certo che quanto è stato seminato continuerà, io mi auguro che i frutti possano essere abbondanti in futuro e possa il futuro essere benedetto per tutti. Grazie. Applausi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti